E noi adesso andiamo al Gran Sasso Science Institute, che è la seconda università dell'Aquila, uno dei poli che fa dell'Aquila, appunto. La città della ricerca c'è in diretta con noi per raccontarci di questo istituto. Alberto Orsini, buongiorno Alberto. Buongiorno Micaela, buongiorno ai telespettatori. Sì, questa è la scuola internazionale, la seconda università che ha internazionalizzato appunto l'Aquila, ha riportato 50 dottorandi ogni anno da tutto il mondo, ha ripopolato la zona della villa comunale, Rettore Eugenio Coccia, dove è proiettato questo istituto? Beh, è proiettato sul futuro, è facile dirlo. Direi che noi vogliamo raggiungere l'eccellenza sia nella ricerca che nella formazione dei giovani ricercatori, ma anche essendo interdisciplinari, non abbiamo economisti fisici, matematici, informatici, gomito a gomito praticamente, questo offre condizioni di progetti nuovi e innovativi, contemporaneamente rendendoci conto che il progresso, per essere progresso di molti e non progresso di pochi, deve essere anche molto trasparente, quindi creare situazioni, forum, incontri di consapevolezza del mondo verso cui stiamo andando. Marika Branchesi, docente, parte importante del team che ha confermato l'esistenza delle onde gravitazionali, suo figlio sappiamo che ha preso un accento a Quilano, quindi si è integrata in città con tutta la famiglia. Sì, benissimo, è una città che accoglie noi ricercatori molto bene, io mi trovo benissimo tutta la famiglia, è un luogo che è capace di attrarre persone dall'estero, quindi sia professori che studenti, al massimo livello, e quindi questo è il motivo per cui ho scelto di fare ricerca ad alto livello in questa città. Alessandra Faggiano, prorettrice, un altro rientro dall'estero all'Aquila, ecco, è un polo attrattivo importante, come si vive qui? Benissimo, assolutamente sì, io sono stata 18 anni all'estero, 11 anni in Inghilterra e 6 in America e sono poi rientrata all'Aquila perché per me l'Aquila è una bella città, si vive bene, io vivo bene, sono originaria di Milano, però comunque ho scelto di rientrare qui all'Aquila e l'Aquila è una città che anche all'epoca, quando sono venuta per la prima volta, era chiaro avesse delle potenzialità e quindi adesso che cominciano a vedersi le potenzialità e il post ricostruzione io sono veramente contenta di vivere qui. Con questo messaggio positivo restituiamo la linea allo studio.